acrotiri la città sepolta dell'isola di santorini in grecia a cui facciamo un salto indietro di quasi 40 secoli quando le civiltà nel mediterraneo erano veramente al loro apice gli egizi avevano appena scoperto le frazioni i babilonesi che hanno cominciato a studiare le stelle veramente un periodo d'oro nel nostro passato in cui esistevano delle cose che a noi oggi sembrano un sogno come la pensione o il posto fisso praticamente ma la cosa più curiosa è che acrotiri potrebbe davvero svelare uno dei più grandi misteri della storia perché in molti pensano che sia lei la vera atlantide ma oltre a questo c'è un altro mistero che avvolge la città di acrotiri fu scoperta nel 1860 solo che poi per quasi 70 anni le rovine sono come scomparse dai radar tanto che i terreni su cui sorgevano i suoi resti sono stati addirittura rati dai contadini e sembra che nessuno si sia accorto di niente vabbè ho capito come sarà questa puntata bella fitta di enigmi da risolvere santorini è un'isola greca situata a 230 chilometri a sud est di atene nel mar mediterraneo diverse migliaia di anni fa era la dimora di una civiltà antica e misteriosa sparita senza lasciare traccia migliaia di anni fa sull'isola di santorini una civiltà tecnologicamente avanzata e la sua cultura sono sparita all'improvviso dalla faccia della terra oggi questo paradiso idilliaco è famoso per le sue colline imponenti i colori delle spiagge e il suo profondo mare blu nella punta meridionale di santorini si nascondono le tracce di un passato misterioso sepolta a 60 metri di profondità gli archeologi scoprono acrotiri una città antica che risale a oltre 3.000 anni fa nel periodo di massimo splendore presenta stretti vicoli lastricati la piazza principale delimitata da casi pittoresche che raggiungono i tre o quattro piani di altezza file di pietre colorate ne decorano le facciate cosa sappiamo di questa civiltà fiorente e cosa succede al suo popolo oggi le rovine sono protette da una copertura speciale che permette di controllare il clima all'interno acrotiri è la città più antica articolata e civilizzata del mediterraneo di cui finora siamo venuti a conoscenza il geologo dimitrios papa nicolau indaga sul passato dell'antica città di acrotiri queste rovine suggeriscono che si tratti di una civiltà avanzata che prospera per migliaia di anni prima della sua fine improvvisa è precedente persino al partenone dell'acropoli di rovine considerato in tutto il mondo come il simbolo di una cultura di altissimo livello queste rovine lo precedono addirittura di mille anni rovinni 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 ero 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 Grazie a tutti.